Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo su Honkai Star Rail e dato che per l'appunto è appena uscita la patch 1.2 che ha introdotto Blade come un nuovo personaggio, la nuova storia, nuove robe, nuovo simulated universe, abbiamo tantissima altra roba che effettivamente è stata aggiunta all'interno del gioco, però noi oggi qui siamo con il nostro biondone d'eccellenza, Lucha, con questo sfondo, con questa aurora boreale che ci accompagna, perché questo? Perché ovviamente dobbiamo pullare, non ho tante risorse da parte in realtà, assolutamente non ho tutte queste risorse, sono praticamente povero in culo dopo che ho pullato praticamente tutto per Lucha con un buon 5 stelle che mi è uscito subito dopo 20 pull, però poi per prendere il personaggio ho dovuto praticamente rifare il giro completo a Petey e successivamente prenderlo. L'arma non ce l'ho di Lucha perché comunque non mi interessa, già funziona comunque abbastanza bene anche così, per Blade in teoria dovrei prendere anche l'arma ma per il momento la cosa più importante è quella di trovare il personaggio. Volevo pullare in un luogo epico e credo che il luogo più epico di questo al momento non ci sia, anche perché poi bisognerà andare avanti con la storia, bisognerà vedere effettivamente che cosa succederà da qui in avanti, però oggi il nostro obiettivo è un altro, abbiamo pochissime risorse come potete vedere, ho a malapena 5000 gem con altri 6 ticket che saranno 2-3 pull al massimo proprio per tentare il miracolo del miracolo, però piano piano ci saranno anche ricompense giornaliere che fondamentalmente riuscirò a guadagnare, quindi forse riesco bene o male a potermi destreggiare e poter pullare ancora un altro pochettino. Per quanto riguarda i dettagli, io tecnicamente mi sono fermato l'ultima volta con le ultime pull che mi hanno dato l'ucia e poi qualche cosa altro, una pela e poi altre robe che sinceramente non sono un granché. Ragazzi, tentiamo il miracolo, fondamentalmente tentiamo il miracolo, perché si tenta quello, neanche è vero che ci sono i 4 stelle come Arlan e come l'altra 4 stelle fisica che non mi sto ricordando il nome, mannaggia a me, che sinceramente parlando non mi dispiacerebbero da portare a cos'è l'azione. Ah, Natasha, ok, con questa Natasha dovrebbe essere E6 forse, non ricordo se finalmente E5-E6, una roba del genere, non ricordo sinceramente. Oh, bene, anche Arlan, ottimo, lui è sicuramente E1, però buono, buono, assolutamente buono, ok. Andiamo con un'altra multi e poi probabilmente ce ne sarà solo un'altra. Eh, qui, purtroppo, veramente ci vorrebbe un super mega miracolo per trovarlo subito il personaggio, cosa che non credo si ripeterà. Ovviamente Oddio, un'altra Natasha? Ok, se non ce l'avevo E6, adesso ce l'ho E6 sicuro. Va bene, va bene, direi che posso accontentarmi, ma... Ok, mi sa che questo è l'ultima... eh sì, l'ultima pullata, non credo di arrivare a fare altro dopo. Qualche bel fake out, magari, no vero, non c'è, tipo, non esiste qua, va giusto per darti l'illusione... eh vabbè, c'è, ok, come non detto. Cioè, è incredibile comunque questa cosa. Cioè, ho trovato tre volte Natasha, mi sarei accontentato di... Dell'altra, di come si chiama, lei, madonna, non mi viene il nome, come si chiama, su Shang, madonna, ogni volta il nome non mi viene. Niente, è praticamente, siamo a 1100, quindi non possiamo fare praticamente altro. Avrei qua altri ticket per il banner standard, ma qui, vabbè, sarà poi un altro discorso, non c'è problema. Niente, ci abbiamo provato, ragazzi, è stato bello, ci siamo... ci abbiamo sperato, almeno, io ci ho sperato, però... Probabilmente continuerò a pullare, anche perché comunque Blade è vento e tra l'altro mi serve un personaggio che fa danni. Nel frattempo io ora farò anche altre robe, farmerò un pochettino di gemme, quindi penso di poter riuscire a farmare qualche cos'altro... E poter effettivamente pullare qualche altra cosina. Ma per il momento finisce qua. Quindi, grazie per essere stati con me e alla prossima. Signori, non è ancora finita. Ho scambiato i punti nello shop per prendere i ticket, quindi abbiamo ancora una multa a disposizione. Metodo giappino. Niente. Ci abbiamo provato. È stato bello, crederci, però. Vediamo se almeno mi esce una copia di Sushang, giusto per... Per dire, dai, Sushang... Oddio, ok. Only Silence Remain non è male. Che ne ho un'altra copia. Anche se farò, comunque, penso, la Super Imposition. Non credo di tenerlo doppione, a parte. Peccato, ma quindi su Sushang mi sa che... No, infatti, su Sushang niente. E va bene. Niente. Ci abbiamo provato. Ragazzi, niente. A questa volta è veramente finito. Adios. Ragazzi. Che!